Il nuovo polo In moltissimi comuni andrà in ordine sparso, ha trovato l'intesa su Porto Imperio, che la sta cercando su qualche altro comune, ma non sarà facile avere candidati unitari come si era annunciato un paio di mesi fa. Poi ci sono i problemi interni ai singoli partiti e poi c'è soprattutto il ruolo dell'MPA, che in questi giorni celebra il congresso che dovrebbe cambiargli nome, i cui rapporti di Lombardo con il terzo polo restano ancora complicati e il futuro dell'MPA al momento è ancora abbastanza imperscrutabile. E allora gli approfondimenti sulla situazione del terzo polo su AES in edicola da domani, sabato 19 marzo.